Ciao a tutti, sono il Giacomo Bertini e questo è il mio primo tutorial del mio sito. Se avete la mia notizia, potete vedere ogni mese un tutorial gratis. E questo è il primo, vi mostro. Ok, vi mostro, ho un po' qui. La mia notizia è un po' di africano, ma questa poina cambia da america. E cambia di africano, da africano, da america. E cambia di nuovo, questa poina cambia. Ogni volta che vuoi, questa poina cambia. American, africano, da africano, da america. E questa poina cambia ogni volta che vuoi. Uno, due, tre. Ok. Vi mostro l'esplanazione. Ho usato due poina, una poina america. Kennedy, una poina half dollar, una poina silver. E una poina africana con una tru in centro. Quindi è molto buona per cambiare spellbound. Ok. Ho iniziato con la coin in classica posizione, fingerpad. Ho mostro l'ambiente l'altra coin. Ho metto la coin in classica spellbound posizione. E questo è il primo cambiamento. Ho metto la prima coin. Ho metto la prima coin. Ho metto la mia thumb. E, allo stesso tempo, ho metto la altra coin in la stessa posizione. E questo è il primo cambiamento. Ho ripeto. Ok. Uno, due. Tre. Ok. Ho metto la coin in posizione di thumbbound posizione. In questa posizione, posso cambiare un altro cambiamento. Il cambiamento classico. Pusso la coin. E cambiare ancora. Ok. Inizio. Uno, due, tre. Ok. Ripeto. Uno. Il primo. Due. Il secondo. Ok. Come questo. In questa posizione, posso fare l'ambiente originale, di un gioco americano, Ken Krenzel. Con questo gioco, posso cambiare ogni volta che voglio la coin. In la stessa mano. Ok. Guardate. Questa è l'esplanazione. E ho la coin qui. Con la thumb. Con questa thumb, ho legato la coin. Un. E in questa posizione. Con la thumb. Un. 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 e tre ok slide in this way and repeat in the front is very good and I hope you like it